Arrivano 100 milioni di euro per i ristori dei danni della nevicate del sisma del 2017. Il Comune di Teramo ha pubblicato l'avviso pubblico e le domande per accedere al beneficio dovranno essere presentate entro il 31 marzo prossimo. Sì, le domande vanno presentate entro il 31 marzo con una perizia asseverata da un tecnico che dovrà dimostrare il nesso di casualità con gli avversi agenti atmosferici del gennaio 2017. Sono dei fondi che grazie veramente all'attività incessante del Presidente dell'Anci regionale, del nostro Sindaco Gian Guido d'Alberto e del Commissario della ricostruzione, Commissario Legnini, siamo riusciti a recuperare dopo quasi 4 anni. Sembravano fondi che oramai dimenticati, in realtà questa attività veramente di sensibilizzazione e questa attività da parte del Commissario di vicinanza ai territori ha fatto sì che ci fossero, venissero ritrovati questi fondi che non sono pochi ma sono 100 milioni di euro per il solo Abruzzo ma che potrebbero anche essere di più in relazione a queste attività che abbiamo messo in campo. Quali sono le categorie che possono accedere a questi fondi? Tutti coloro che hanno avuto danni conseguenti a maltempo del 2017 e del gennaio 2017, quindi della nevicata e non solo della nevicata. Potrebbero essere danni anche di tipo dissesti rogeologici come fabbricati, attività lavorative, come pannelli fotovoltaici, come attività che si sono dovute delocalizzare in relazione a quell'evento. Le domande che sono state presentate, che sono già presenti nel Comune, dovranno essere ripetute. Le domande che saranno ovviamente successivamente trasmesse all'USR per la valutazione della richiesta, se ritenute correttamente formulate e con un nesso di causalità evidente, saranno ricompensate anche delle spese e delle perizie tecniche, per cui far fare la domanda significa non preoccuparsi della spesa che si sta sostenendo nell'immediatezza, ma tecnicamente quelle spese e quei soldi saranno poi rimborsati. I fondi sono stati recuperati soprattutto grazie all'intervento del Lanci regionale. Sì, è stata una grande vittoria del Lanci, del Lanci Abruzzo in particolare, che ho l'onore di rappresentare insieme a tutti i sindaci e grazie ovviamente anche poi al lavoro del commissario straordinario che è riuscito ad interpretare questa esigenza del territorio, a rappresentarla al governo e a tradurla in norma. Al momento abbiamo avuto quindi questo stanziamento di 100 milioni di euro per due annualità, chiediamo ulteriori risorse anche all'esito di questa importante ricognizione che si chiuderà il 31 marzo. abbiamo fatto una battaglia congiunta come sindaci per una situazione che penalizzava all'interno del cratere soprattutto la regione Abruzzo che è stata maggiormente colpita ovviamente dagli eventi nevosi del 2017.